Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla E siamo tornati su Resident Evil Village Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio siamo qui nella stanza del duca C'è quell'enigmino ma ci serve la sfera E quindi non possiamo farlo, non possiamo svolgerlo Siamo nel castello Dimitrescu Abbiamo avuto il piacere e l'onere di conoscere Le proprietarie di casa Qui dove eravamo Aspetta che qua c'è un qualcosa Che non lo posso pigliare E vedi che c'è qualcosa qua Ah ecco perché c'era il vetro Ok Ok c'era un vetro Salve messere Quindi qua Ah no questo è un cassetto chiuso Uh questo lo posso No ok Uh posso rompere tutto Ok allora Me perdoni eh madame Però sa Devo esplorare Una bella bambolina Cioè nel senso Una di quelle bambole di Di pezza Allora noi da qua siamo arrivati Perché qua c'era il passaggino Il segretino Quindi Questa è la stanza Ehm Di Milady Ok Non c'abbiamo niente Ok possiamo andare avanti Ok Qua c'è qualcosa Ah la serratura è la scassinare Quindi ci serve il grimaldello Ok Quindi ora Possiamo salire di sopra Abbiamo fatto giusto un Ehm Recap Di quello che È il castello Quindi ora vediamo un po' Qualcosa ci abbiamo Colpi per la pistola Bene 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 Mi fa piacere Piacerissimo Ah Abbiamo sbloccato Questa parte Così a caso Ok Questa cassetta È vuoto Questa porra Ah ma qui Torniamo Volvere la sparo Questa è dove Da dove siamo arrivati Noi no Se C'è da dove siamo arrivati noi Con la fuga Lì dalla miniera Perché qua abbiamo visto le figlie Quindi c'è Il quadro delle figlie E quindi Ah quindi questa era la porta Quella bloccata Ok Perfetto Quindi qui sotto Cosa abbiamo Niente Quella porta Altre munizioni Per la pistola Qui Qui Nada Sto esplorando un po' Per vedere Allora Quella porta L'abbiamo fatta C'è questa porta qui E poi c'è il piano di sopra Ok Si deve aprire dall'altro lato Perfetto Quindi quella porta lì Non si va da nessuna parte Andiamo lì sopra Allora C'è qualcosa qui Allora lì Sì c'è qualcosa Ok Ok Qui c'è Questa Questa Oh Per Messico E ma che cazzo È da tanto Che non spentrò Ti appenderò Ti toglierò la gomma E mi tolisci Meglio vivo O morto Tu che cosa preferisci Eh Preferisco stare vivo Me Madame Che paura Starai benissimo Esposto in salone Non riesco più a trattenermi Ok Scendi Ok E che cazzo C'è Stavo esplorando Però E mo Siamo finiti Con sotto Però Eh Doh siamo In cantina Siamo finiti In una cantina Oh Non posso fare nulla Ok Salve Madame Ok Vediamo un attimo Vediamo Ok qua abbiamo Che ci deve essere qualcosa Noi siamo arrivati da qua sotto Cioè da qua Quindi io presumo che io debba andare qui Perché lei è uscita dalla porta Quindi Non penso che io la debba seguire subito Ok Non c'è nulla Ah Quindi vediamo Ok Dov'è 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 Vediamo Porticina Porticina Giuro che non lo sapevo Fatto a caso Immaginando di dover accendere ste torce Però Io No no Un No no Una torcia io però Ah ok No ce l'avevo E che è la stanza delle torture qua Non c'è niente Qua è tutto abbandonato Tutto lasciato a se stesso Così Questo deve essere un Ma che cavolo c'è stava qua dentro Un cane Immagino Sembra una sorta di Laboratorio Qui Si facevano Esperimenti Che caspita Gli esperimenti facevano Qua Qui cosa abbiamo Ok Dei pezzi di ferro Qua Oh Scarti di metallo Non so cosa ci possano Svervire gli scarti di metallo Di cristallo Non mi fa vedere Nulla Per cui Penso che Allora Che caspita Sei Ma che le faccio Saltare le cervella Dai giù Buono Bomba artigianale Posso andare Sotto No Cioè lui ci poteva passare E io giustamente No Io sento dei versi Ma non capisco Sei morto Ok Con lana Di Ingrid Ok 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 Vieni qua Vieni qua Bello Vieni Dai She's Bam Ok Se solo Sandra Ti avesse E ucciso subito Che diamine Stupido Stupidi uomini Li odio Voglio del sangue Sangue Rosso Brillante Vai Ti avesse Che strumenti preferisci via 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 sangue di un uomo vigoroso dove te ne fai a un uccolo che diamine e che è i proiettili non mi fanno nulla tu stupido amoncolo aia il mio corpo si distrugge come oggi essere tanto sfrontato sei vinto? mi ha vinto? oh mi sa di si uh busto cristallizzato eh grazie finestra è la prima è andata mi sa ma possiamo avere una lotta così a caso? cos'è un prosecco? sanguis virgins sangue di vergine raccogliamo qua abbiamo fatto ah beh lì mi serviva il grimaldello cazzo la del mercante ok qua mi serve il grimaldello che non ho che non ho ancora trovato quindi grosso modo dovrei aver preso gran parte della refurtiva qua dentro qui? ok qua non oh questo monta parte olle armaiolo trofeo guadagnato ok abbiamo messo anche il nuovo potenzial uh grimaldello fantastico aspetta aspetta avendo il grimaldello penso che adesso possiamo interagire con questo scassinatore e vai angelo di legno ok chiudi ho ancora il grima? no non ce l'ho più eh mi sa che sono dei consumabili i grimaldelli allora salve siamo finiti ma cosa abbiamo? uh della polvere da sparo qui cosa c'è? interagì no mi serve un qualcosa che qui non ho al momento ok sblocchiamo e siamo qui quindi abbiamo ok siamo sbloccati da quella porta là perfetto io direi di fare una cosa andiamo alla stanza del duca ok qua grazie al tuo continuo supporto ho potuto ampliare i miei servizi vale a dire se vuoi dare un'occhiata in giro fai pure vediamo un po' qui che cosa abbiamo eh il caricatore a me servirebbe parecchio però che vuoi comprare? un mio vecchio amico era solito parlare così al busto bu qua cioè questi questi angelo di legno non so se mi posso servire collana di ingrid soluzione medica munizione di pistola pistola fucile come sempre un appare davvero ragionevole ed equo io direi di prendere il caricatore aspetta ho 12.000 sei anzioso di provare l'acquisto agliopaggiamolo ok e poi ho questo ok così alla prossima volta allora molto bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto la prossima volta ripartiremo da qui io come sempre vi invito a lasciare un bel like a commentare condividere iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ciao belli lì lì lì